Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io come sempre sono Andrea e oggi parliamo di un gioco che strizza l'occhio un po' a tanti generi e caspita, è uscito veramente bene. Sto parlando di Moonscars. Intanto è uno studio molto giovane, ai livelli di Annapurna, esattamente come Annapurna mi ha stupito. Hanno fatto un lavoro veramente eccellente, sia sulle animazioni che sulla grafica, scegliendo un qualcosa di molto semplice, non tanto arzigogolata, ma che si capisse. Il bello del gioco che è molto chiaro fin da subito. I primi nemici che incontriamo non hanno aure intorno, non hanno lance conficcate addosso, non hanno prepotenza particolare. Ma appena superiamo il tutorial, sostanzialmente, incominciamo a vedere dei colori diversi sui nemici, gli occhi che si illuminano, cose molto particolari che ci vanno a spiegare quello che sta per succedere. E di solito è tipo, ehi, ti stiamo per attaccare. Prima di andare avanti però, i dovuti ringraziamenti agli abbonati, a chi utilizzando i super grazie decide di supportare il canale attivamente. Sicuramente, grazie davvero a tutti quanti ragazzi, è una soddisfazione vedere tanto sostegno da parte vostra. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, fate come loro, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella, soprattutto quella, per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video e per supportare il canale attivamente. Qua sotto in descrizione trovate tutti i link utili più belli che abbiate mai visto, come gli abbonamenti, i super grazie, e chi più ne ha più ne metta. Allora ragazzi, per la prima volta sono in difficoltà nel parlare di un gioco, perché mi ha veramente spiazzato. È fatto veramente bene. È stato pubblicato da Humble Games, ma gli sviluppatori sono Black Mermaid. È disponibile dal 27 settembre, quindi siamo un pelino in ritardo con la recensione, quindi scusatemi, per PC, Xbox One, Serie X, S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Per Xbox è disponibile sul Game Pass, nota positivissima, quindi è uscito immediatamente dopo la pubblicazione. E ci troviamo davanti a, come dicevo prima, una piccola perla che bisogna giocare. Bisogna giocare perché è un'esperienza, ragazzi. Uno, bisogna avere tanti riflessi. E per tanti riflessi intendo proprio tanti. Io ho perso il conto di quante volte sono morto soltanto all'inizio per farvi vedere questi spezzoni di video. Poi sono andato avanti, poi ho capito. Però bisogna essere capaci. Bisogna continuare a muoversi, bisogna stare attenti ai muri, perché certi hanno sponzoni. Ci sono delle difficoltà, state attenti a dove saltate, le piattaforme spariscono, alcune eccetera. C'è mille cose che cambiano il modo di giocare e approcciare le zone differenti man mano che si va avanti. Noi siamo Grey Irma, una statua d'argilla che è stata infusa con la vita sostanzialmente. Dobbiamo trovare lo scultore, colui che ci ha dato tutto ciò, che è un personaggio abbastanza bizzarro e non si incontra immediatamente. C'è anche un'altra guida parallela che è il gatto, idea che mi è piaciuta veramente tantissimo. E man mano che andiamo avanti incontreremo un casino di personaggi. Tra cui una cosa che mi ha fatto veramente piacere vedere, il nostro Double Ganger. Ovvero una nostra copia molto incazzata, che è difficilissima da battere, anche nelle prime battute. Perché vi dico questo? Perché stateci attenti ragazzi. L'intelligenza artificiale è fatta veramente molto 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 bene. E di conseguenza, soprattutto contro il Double Ganger, vi troverete in difficoltà perché ha una velocità di azione, reazione, veramente assurda. È pari alla vostra, ma voi siete ancora all'inizio. Dovete ancora capire come funziona il gioco. E schivare, colpire, schivare, colpire, schivare, colpire, salta, schiva, colpisci. Non è la prima cosa che vi viene in mente. La prima cosa che vi viene in mente col fatto che sta fermo e vi aspetta è chi sei? Ma poi vi passerà in cavalleria la domanda, ve lo assicuro. Detto questo, i colori, pattern colore e grafica molto pixelosa, molto poco definita, sono state la scelta giusta per un gioco simile. Questo gioco ha bisogno di dinamicità e ce l'ha tutta. È già stato classificato da tanti come un'evoluzione di Castlevania, ma per me no. Castlevania rimarrà per sempre Castlevania e sarà uno di quei traguardi che io definisco, e mi dispiace definirlo così, ma inarrivabile. Perché? Perché ha segnato la storia. Fare qualcosa che possa sovrascrivere quello che è già stato messo giù, nero su bianco, da Castlevania, vorrebbe dire creare qualcosa che possa superare, che sia nuovo, innovativo, genuino e terrificante al tempo stesso. Perché Castlevania ha una storia abbastanza cupa e tetra. Se poi andiamo ad analizzare anche quella di Moonscars, scopriremo che anche qua c'è del tetro, tantissimo tetro. Ed è pieno di lore come gioco. Mi piace questo concetto che stanno utilizzando, prendendolo ovviamente da giochi come Elden Ring, Dark Souls e compagnia bella, di incastrare lore ovunque. La lore fa da padrona e il gioco è soltanto il contesto dove noi possiamo trovarla. Torniamo un secondo alla palette colori. È omogenea, non avremo colpi di scena di colori pazzeschi e roba simile. È sempre molto plain, non ci sono ombre particolari, dettagli che vengono definiti in maniera pesante. Forse la cosa più dettagliata che incontreremo nel nostro tragitto è proprio lo specchio, di cui però non vi voglio parlare. Dovete scoprirlo, ragazzi. Voglio fare una recensione abbastanza pulita, abbastanza genuina, ma senza spoiler. Non vorrei andare avanti nella storia e spiegarvi certe cose, certe meccaniche, perché mi dispiacerebbe rovinarvi l'esperienza. Le musiche le ho trovate molto piacevoli. Ci stanno, sono contestualizzate, stanno bene con quello che vedete, quindi vi aiutano nell'immersività, nonostante comunque il gioco sia abbastanza semplice graficamente e l'immersività sia quella che è. Comunque creazione di atmosfera e ambiente lavorano molto bene insieme. Ve lo consiglio, anche perché, ripeto, su Game Pass è gratis, quindi se ce l'avete, ragazzi, scaricatevelo, giocatevelo, provatevelo, bestemmiateci fortissimo, perché ci ho bestemmiato fortissimo, ma dedicategli un momento, perché secondo me vale la pena di essere provato. Soprattutto, ripeto, perché la storia è molto, molto, molto carina. Il fatto dell'argilla, di cercare il motivo della nostra venuta al mondo, della nostra esistenza, è un richiamo continuo, come sta succedendo comunque in tantissimi giochi, a delle storie che abbiamo sentito bene o male tutti quanti a scuola. mi ricordano i greci, le storie greche, le mitologie greche, tantissime cose di questo gioco, mi riportano alla mente quegli incastri lì. Che dire? Ragazzi, per me questo è un... un otto, perché merita veramente tanto. È ben fatto, ben strutturato, divertente, e anche quando vi mette in difficoltà, che quindi vi porta a morire più e più volte, in verità è un insegnamento e non la prendete neanche tanto male, perché come nei Souls hanno aggiunto questa possibilità. Io posso correre per il 70% del gioco, per il rimanente 30%, però mi devo fermare e picchiare. Ci sono potenziamenti, ci sono armi, amuleti, potete incastrare le cose bene o male come vi pare e creare il vostro personaggio a vostra immagine e somiglianza. Non fisica, il personaggio è quello, ma intendo basato sul vostro modo di giocare. Vi piace picchiare pesante, vi piace sfruttare le spade, le lance. C'è un po' di tutto qua dentro e ci sono abilità speciali, magie. Potete veramente sbizzarrirvi con la semplicità, la freschezza e l'immediatezza di un gioco che non ha bisogno di presentazioni. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se lo state giocando. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video e per supportare il canale attivamente. Qua sotto in descrizione trovate tutti i link utili come abbonamenti, super grazie e anche il nostro gruppo Telegram dedicato agli sconti per gamers poveri. Sconti che utilizziamo anche noi, ovviamente. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.